bella bella merda aspetta ma che dritto voglio vai stai facendo sicuro? no in realtà si ti ho già assicurato no la palla la vuoi togli la palla? no no perché non ti va bene la palla? guarda che la palla è comoda ma è la palla con la maniseta insieme non è solo palla vai io vado? vai comunque se lo metti un pezzo prima di quella fessura non è cattiva l'idea no sotto al tuo piede andava già un friend la ah quindi qua c'è un rimasuglio di uno spit rimasuglio di spit ottimo ma è l'ammesso di chiodo? ma è accontento di quel chiodo meh che pasto di merda comunque bello bello io vado e mi inventerò una cosa ma anche qua pure se non ci faccio sicuro a palla perché tu ne dica sicuro non cazzo qua non ci faccio dico 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 non ci faccio di cosa me c'è la fala dai infatti vai un vecchio ti posso fare il nodo? si mi spingere contro quello che vuoi mi sposta come guarda che cosa hanno fatto qua questi droni sta con questi gradoni sembra proprio così vado con la pancia faccio il segno della croce non ho capito dove la fa forse sarà sopra col terrazzino si sicuramente ma penso prima della fessura obliqua no sicuro prima si sul terrazzino quello poco dopo la pancia dove non fa cazzate si hai il problema? eh qua lo devi tanti prima della pancia non c'è in più cioè c'è già in media fretta no? ah ecco la troppa finissima per la variante si ma che non si vede solo la la pancia ma quando hai già iniziato non si vede solo la pancia ma quando hai già iniziato ma non si vede solo la pancia ah no faccio non si vede solo la pancia ma quando hai già iniziato Grazie. Grazie. Ci ho messo più difficoltà giù. Oh freddo. E' senza magnesite. Me ne sento umide. Sì, no, gli alpili sono buoni. Per i piedi, addirabilità. Ho detto ma... La fessura è buona. Ma da lontano non ti sembra. Però devi andare quasi in aderenza. C'è proprio a contrasto. BAM e vai. Infatti devi stare un po' col culo fuori. Proprio per fare il più contrasto possibile. Se ti metti attaccato qualcuno scivola. Hai fatto il giro sicuramente tu. Che cazzo. Non ha senso. Ma vaffanculo. Mi metto all'aglio. Tu mi hai già? Sì, ti ho già. Io mi stacco. Tu staccati che ti ho già. E ci scambiamo. Premi lo scambio. Ah, qua davanti a te. Sì, aspetta. Eh... Sì, dai. Quanto tanto quando... Sì, dai. Dai cordo un po'. Mi guardo perché... Sono sempre... Se non ti ho già. 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 Ah, qua davvero. Se non ti ho già. Se non ti ho già. dai anche perché qua sotto la parete proprio ci vado a sbattere col cacolo la testa ma mai ti do già un po di corda fa cazzate fa cazzate se quale buono anche prima lo potevi mettere fra sinistro anche no 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 fai come ti senti dimmi tu quando vuoi corda messo grande ma già adesso a me non ti fai male fra chiudi quella quel destro c'hai c'hai sulla fessura più sopra anche ok si ottimo guarda come cazzo fai a caricare su quel sinistro quello è forse lo devi chiudere no poi non tenisci più sono rimetti della fessura fra e carichi pochi sotto però la buona se la è buona e qua sempre fessura non avevi evito no 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 più facile da lì si fa con i fix si fa con i fix si fa in realtà all'inizio è molto boulder eh direi non lo so vedi la relazione forse suo spuntone l'ultima sosta anche la porra ce l'abbiamo fatta come diceva la relazione il primo tratto giù il quinto l'uscita 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 l'uscita